Sono in arrivo su gran parte della Toscana, piogge e forti temporali, effetto dell'accentuata instabilità sul Mediterraneo determinata dall'afflusso di aria più fresca in quota. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per precipitazioni e temporali. Per la provincia di Arezzo interesserà le aree del Casentino, del Valdarlo, della Valdichiana e della Valtiberina. I temporali sono attesi fino alla prima mattinata di sabato 30 luglio. Dalle 21 di questa sera è esteso il codice giallo anche per rischio idrogeologico del reticolo minore sulla Toscana nord-occidentale. Per chi le ferie però le deve ancora iniziare non è certo il momento di disperarsi. Già domenica 31 luglio sono di nuovo previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, niente piogge e temperature un po' più nella media stagionale, dalla massima di 33 gradi alla minima di 20. Tornerà a farci compagnia in questa lunghissima estate anche un po' di AFA.